Musica Riordino dei punti nascita e applicazione della norma sulla responsabilità professionale inserita nel decreto Balduzzi. Sono alcune richieste avanzate dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche, che assieme ai sindacati dei ginecologi aderisce allo sciopero delle sale parto, annunciato per il 12 febbraio. I ginecologi e le ostetriche protestano contro i tagli alla sanità, che mettono a rischio l'assistenza, e contro l'esplosione del contenzioso medico legale, che non permette di lavorare serenamente.